Si mangia i costaci, doveri dinti che calavanti. Si, facciamo qua, non scarsa niente. Non si scarsa niente. pensi che è in manacqua a luna no carne, olio e cash tutto in nero praticamente no carne, perchè gli fai nero? è nero hai uscito? è qua, devi prelevare è giusto già pronto? ciao ciao Italia ma scusate per domani io lo so che avete già mangiato sì ma per domani se volete ripassare qua da noi che facciamo ottimo avete visto? potete guardare? sì sì ho visto questa è tutta roba roba fresca ora taranzino dentice capiscianti capiscianti lo sapete che oggi ho parlato così tanto con gli italiani perché hai la lingua un po' mio lavoro è questo come con i discotecchi che buttano fuori sì sì e sono quelli che buttano dentro ah bravo ti porti dentro quasi mai domani dai provatevi più fatta noi ci facciamo ottimo la pizza non vi offro perchè la pizza è più buona in Italia sì sì è vero bravo la pizza italiana è più buona in Italia è la più buona che ci sia il pesce è qua il pesce ma anche in Italia si mangia il pesce sì dipende sempre ma non lo sono stato mai in Italia io sì sì è vero ma qua siamo dentro provate domani domani se volete provare dai domani possiamo domani ok grazie ci vediamo buona vacanza no sì grazie ciao grazie in un po' no lo fate che cosa va ora non vi auguro cosa va che cosa va ora si vede le bestie le o brate te le bestie le bestie le bestie le bestie pesati ma quanti sei qua del rio? ti ricordi il figlio? proprio te siete smettendo l'alti ma che volta devo portare? in classe mi visti qualche volta? guarda qua guarda che resta così la ragusta la ragusta è sì ben pesati, identici lascia le mani, le mani, le mani le mani le mani buongiorno 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 questo è nuovo questo è nuovo si si questo è nuovo fanno leiera che cosa è? che cosa è? che cosa è?